Qual è il suo nome? Iesbel. Iesbel Lavin Spurnera Aisela. Resterà in sala assicurazioni generali del Politeama Rossetti fino a domenica 9 febbraio Iesbel, lo spettacolo di grande effetto che Francesco Nicolini ha tratto dal romanzo di Irene Lemirovski e che nelle mani del regista Paolo Valerio diventa una sorta di metafora sull'incapacità di accettare il tempo che passa a farne le spese la protagonista, una donna fiera della sua bellezza, disposta a tutto persino ad un gesto estremo per fare in modo che nessuno venga a sapere che colei che si sforza di apparire come una quarantenne in realtà viaggia verso la sessantina. Ricco di riferimenti che ognuno di noi può far propri, uno su tutti i viali del tramonto e che dunque suppliscono ad una non generale immedesimazione nella tematica principale Iesbel si diverte anche a giocare col teatro, con gli elementi scenici in mostra e grazie ad un espediente sempre più utilizzato, quello cioè della narrazione in scena consente allo spettatore di cogliere con estrema facilità passaggi altrimenti complicati non fosse altro per tenere dietro alla girandola di amori della protagonista. Passaggi cui dà vita un cast di grande valore Roberto Petruzzelli, Leonardo De Colle, Francesca Botti, Sara Drago, Giulia Odetto e Josef Giura su tutti una straordinaria Elina Ghiaurov semplicemente perfetta e in grado di passare da una giovinezza sfrenata ad un'età matura senza alcun artificio se non una presenza scenica di grande effetto Musiche di Antonio Di Pofi eseguite dal vivo da Sabrina Reale Elina Ghiaurov è la protagonista di Iesbel, una donna forte verrebbe da dire anche sotto certi aspetti, anche una donna disperata? Sì, decisamente disperata, vittima di se stessa è una donna che cerca in maniera disperata tutta la vita il piacere, la seduzione, l'eterna giovinezza è una donna che si preoccupa solo di se stessa solo di essere bella, di piacere agli uomini, di poterli sedurre e di mantenere intatta la sua bellezza che nel romanzo, insomma, Iesbel è una donna che non invecchia mai è una donna che a 60 anni ne dimostra 30, a 40 ne dimostra 20 cioè senza età e quindi trovo che sia molto attuale, diciamo, come tematica tutte noi siamo un po' Iesbel che ricerchiamo l'eterna giovinezza e rincorriamo l'impossibile perché c'è una società che obbliga in questo senso soprattutto le donne sì, sicuramente diciamo che siamo bombardati da modelli finti e sintetici che ci obbligano a restare sempre molto sul pezzo molto belle, molto allenate, molto... insomma, si sa quello che fanno le donne ormai le punturine, le tiratine tira di qua, smola di là dimagrisci insomma, è abbastanza pesante quello che la società ci impone qui il personaggio ad un certo punto per uscire da una logica che le viene imposta appunto dalla società arriva ad un gesto estremo che è quello del delitto sì, praticamente Iesbel per salvarsi per non far sì che si venga a sapere che è nonna ormai che ha avuto una figlia, che ha avuto un nipote e che quindi si venga a sapere la sua età che ormai è sessantenne perché noi nel testo, nello spettacolo vediamo Iesbel ripercorrere tutto il corso della sua vita cioè dai 18 ai 60 è qualcosa quindi per impedire al nipote che ritorna che è stato fatto sparire, diciamo così, dalla nonna appena nato e che ritorna dopo 20 anni per impedire che lui in qualche modo sia testimone della sua età in un momento di furore e di disperazione arriva a sparargli, sì Può essere letto anche come una metafora del mondo dello spettacolo oppure questa lettura è forse, come dire, figlia di una concezione un po' vecchia, un po' stereotipata? Beh sì, sicuramente infatti Iesbel non ha tempo nel senso che è una donna che può essere può essere una donna di cent'anni fa di duecent'anni fa di oggi, di domani e di dopodomani, tutto sommato è un archetipo e quindi è come tale eterno in questo senso Il regista di Iesbel è Paolo Valerio che il pubblico del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia conosce per una splendida edizione di Molto Rumore per Nulla lo scorso anno e anni fa per Il Deserto dei Tartari anche qui c'è una forte derivazione letteraria perché il testo è tratto da un romanzo di Irene Nemirovski è proprio così noi siamo molto affezionati ai romanzi e quindi il lavoro che viene fatto sulla dramaturgia per me è molto importante questo romanzo mi ha conquistato, mi ha travolto è un romanzo scritto nel 36 da Nemirovski ma assolutamente contemporaneo quindi la grande sfida è stata quella di portare in scena questo testo così letterario trovando anche un escamotage per portare proprio la letteratura in palcoscenico quindi tutti gli attori diventano anche narratori in palcoscenico e quindi per noi è molto importante riuscire a mantenere questo doppio filo stretto con la letteratura Consente più libertà ad un regista il fatto che un testo non sia mai stato rappresentato oppure è maggiore la responsabilità? Ecco, sicuramente una grande sfida nel senso che non ha i punti di riferimento per questo nostro progetto davvero non era mai stato rappresentato a teatro questo testo da Nemirovski mentre altri testi da Nemirovski sono stati portati a teatro e quindi è molto interessante vedere quali possono essere le strade allora in questo caso ad esempio abbiamo deciso di riscrivere in parte il testo partendo da un processo e poi da un lungo flashback come in parte è nel testo stesso però tenendo un finale inaspettato e abbiamo voluto lavorare fortemente su una sorta di eterna danza per cui questo personaggio danza da quando è giovinetta fino alla fine della sua storia quando viene condannata ma danzano anche tutti gli oggetti di questa scena che sono gli oggetti della sua vita quindi vedrete mobili sospesi che raccontano comunque il senso dello scorrere del tempo che per noi è l'elemento importante e determinante di questo progetto è anche un dato che ritorna spesso nei suoi spettacoli anche nel deserto dei Tartari c'era proprio una scansione del tempo che passa certo, per me è una grande ossessione io sono molto innamorato di alcuni autori di poesia come Elliot ad esempio che tutta l'esistenza raccontano lo scorrere del tempo e per noi questo tema viene enfatizzato ad esempio con questo rapporto molto forte con il tema della musica perché la musica in questo spettacolo è dal vivo per noi è un altro elemento caratterizzante spesso abbiamo spettacoli con la musica dal vivo una domanda anche alla protagonista il ritratto di questa donna terrorizzata dall'idea di invecchiare è che mantiene segreto il fatto di essere nonna eccetera può essere letta in maniera diversa secondo anche della sensibilità dello spettatore potrebbe alla lunga essere letta anche come una metafora del mondo dello spettacolo del ruolo dell'attrice del ruolo anche dell'attore anche maschile perché insomma posso immaginare che a certi livelli determinati problemi siano comuni a maschi e femmine direi assolutamente sì sì perché davvero poi il teatro in questo è un luogo magico dove si vuole in qualche maniera sempre nascondere il fatto che comunque il tempo poi a un certo punto finisce ma per noi l'apertura del sipario è un modo per come dire dare la continuità infinita a questo tempo che poi a un certo punto ahimè col sipario chiuso esaurisce il suo senso, il suo essere e quindi sicuramente una metafora del teatro è un elemento caratterizzante di questo progetto In genere faccio questa domanda agli attori adesso la posso fare anche ad un regista che libertà dà agli attori? È molto, moltissimo nel senso che questo lavoro ad esempio parte anche da molti giorni di improvvisazione il testo che nasce con una dramaturgia si evolve e si trasforma lavorando con gli attori e quindi il lavoro con gli attori è un lavoro che dal punto di vista creativo può darti moltissimo quindi tu hai una griglia, hai un progetto poi in realtà scoprendo nuovi attori ad esempio ti vengono naturalmente nuove idee la suggestione è fortissima quindi il lavoro di improvvisazione in uno spettacolo come questo dove la parte della parola è predominante ma c'è una parte sul corpo che è altrettanto importante e quindi noi abbiamo lavorato molto anche sull'improvvisazione fisica per poi arrivare a una sintesi che è lo spettacolo che vedrete Ultima curiosità perché gli attori sono a piedi nudi? Questa è una scelta del nostro costumista perché da un certo punto di vista per lui era molto importante che gli attori potessero lavorare liberamente a piedi nudi in questo spazio un altro elemento naturalmente un po' più tecnico è che noi abbiamo fatto diversi spettacoli dove ad esempio le scarpe creano sul palcoscenico una rumorosità che può essere molto fastidiosa rispetto al rapporto col pianoforte e quindi è una scelta estetica ma diventa poi una scelta pratica Ultimissima domanda prossimi spettacoli con la regia di Paolo Valero so che riprendete misura per misura se non mi sbaglio riprendiamo tra un mese misura per misura che farà una bella tournée generale al nord Italia poi andrà in Sicilia è uno spettacolo con cui siamo molto affezionati e poi io personalmente sto lavorando a un progetto adesso a Firenze su una terapodicina molto interessante il magnifico rettore di Firenze che è un chimico Luigi Dei ha scritto un testo ispirato a un altro chimico Primo Levi quindi è un testo di un chimico che parla di un chimico e poi dal mese prossimo invece lavora una regia lirica Amleto di Franco Faccio che è un'opera scritta nel 1865 mai rappresentata in Italia La prossima settimana martedì 11 febbraio farà tappa Rossetti Shine Pink Floyd Moon uno spettacolo con le coreografie di Mischa Von Hecke che fonde l'intramontabile rock dei Pink Floyd con l'arte di uno dei massimi coreografi contemporanei partendo dalle suggestioni dell'album Shine on You Crazy Diamond lo spettacolo inizierà alle 20.30 sempre martedì 11 febbraio ma in Sala Bartoli dove resterà fino a domenica 16 con inizio alle 19.30 debutto triestino per apologia di Alexis K. Campbell un testo serratissimo che ancora una volta indaga sui rapporti familiari e fra amici e che riporta a Trieste la grande Elisabetta Pozzi Per la quinta volta a Trieste è andato in scena al Teatro Rossetti il musical Notre Dame de Paris che si conferma come uno degli spettacoli più visti negli ultimi vent'anni dal 29 gennaio al 2 febbraio il cast formato da attori noti come Gio Di Tonno Vittorio Matteucci e Laida Dani hanno incantato gli spettatori triestini con un vero e proprio sciorico di musica emozioni e acrobazie ad affiancare gli attori un corpo di ballo costituito da 30 artisti tra ballerini acrobati e breaker che hanno contribuito a donare magia alla rappresentazione tratta dal celebre romanzo di Victor Hugo mi avevano detto mi avevano detto che il pubblico triestino è freddo tra le virgolette non proprio freddo ma richiede tanto pretende tanto e vedere quella reazione alla fine di ogni spettacolo i stand innovation che non sono mancate mai è veramente un grande piacere interpretare Smeralda è stato un grande lavoro e continua ad esserlo ogni giorno vuol dire scoprire e studiare un personaggio degli anni in ottocento è veramente faticoso perché soprattutto quando non trovavo un punto di affinità con lei per oggi posso dire tranquillamente che amo tantissimo questo ruolo e non vedo l'ora di salire sul palco ogni sera per mettermi quel vestito verde che amo tanto dipende sempre da chi scrive da quando si scrive da che cosa si scrive e qui abbiamo avuto la fortuna che Riccardo Cocciante con Luc Plamondon abbiano scritto una grande opera e si siano ispirati alla grandissima letteratura se succede questo si hanno dei grandi risultati e quindi ci si augura che nei prossimi anni succeda ancora a qualcuno di avere questa congiuntura astrale perché ci sono tante cose che devono andare nel verso giusto questo spettacolo è un successo inarrestabile dovunque andiamo riusciamo a mietere dei grandi numeri dei grandi successi Trieste hai detto bene è una culla della cultura del teatro e ci fa piacere perché è un pubblico ovviamente esigente abituato a grandi spettacoli e quindi ci riempie il cuore a riuscire ancora ad emozionare a coinvolgere così tante persone libera sentire Grazie a tutti.